Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Non ci sono ancora i dati definitivi per quanto riguarda le elezioni negli Stati Uniti perché deve ancora terminare il conteggio in alcuni stati in cui comunque Biden sembra essere avanti. Per questo motivo nella notte il candidato democratico nel suo discorso non ha dichiarato la sua vittoria ma ha detto che bisogna ancora aspettare. Nel frattempo Trump non molla, continua ad andare avanti con i ricorsi legali anche se il distacco è sempre più evidente. Per quanto riguarda l'Italia invece c'è stato un nuovo picco di contagio. Abbiamo sfiorato ieri nelle ultime 24 ore quota 38 mila e soprattutto quello che preoccupa è il numero dei decessi, 446 con le strutture sanitarie sempre più sotto pressione per questo. Comunque anche rispetto ai dati dei giorni precedenti il ministro della Salute e Speranza ieri nell'informativa alla Camera ha detto che non c'è alternativa a questo, bisogna andare avanti e soprattutto ha invitato a fare in modo che questo, il Covid e questa situazione non sia terreno di scontro politico. E poi nella notte è arrivato il Via Libera al secondo decreto legge Ristori. Allora partiamo dal Corriere della Sera che tra l'altro oggi propone un'intervista al Premier Giuseppe Conte che dice alle regioni in maniera molto chiara non torno indietro, chi si sta opponendo ci porta a sbattere quasi 38 mila contagi un decreto per rendere trasparenti i dati sulle tre fasce, quella sulla scuola è stata, dice in questa intervista, una scelta dolorosa. C'è un'altra intervista oggi che vi segnalo sul Corriere della Sera all'Ocatelli del Comitato Tecnico Scientifico che dice misure corrette, effetti concreti fra tre settimane. E c'è anche il CT Mancini che è positivo e asintomatico nella lunga lista appunto che riguarda anche lo sport. In taglio alto i discorsi da vincitori di Biden ed Harris Trump nega il sorpasso e appunto dice combatterò e poi c'è la squadra di Joe tutta al femminile. Apertura della Repubblica dedicata all'elezione americana e Biden assedia Trump e avanti in quattro stati con un margine che cresce di ora in ora. L'Homeland Security smentisce le accuse di frodi elettorali. Il Presidente è sempre più isolato, non intendo mollare e ricorre alla Corte Suprema per fermare lo spoglio. In Pennsylvania i democratici il Governo sa come rimuovere gli intrusi dalla Casa Bianca. Poi naturalmente ci sono tutti gli approfondimenti sulla situazione delle elezioni americane. Per quanto riguarda invece il Covid in Italia peggiorano i dati e rischiano sei regioni. Il nuovo decreto ristoria aiuti raddoppiati, rinvio tasse e bonus babysitter da 1000 euro. La stampa, eccola qui, ancora Biden vince, di fatto appunto Trump non si arrende. Demi in vantaggio nei cinque stati chiave. Il candidato democratico scrive il discorso della vittoria e studia la futura squadra di governo. Ancora una giornata di spoglio delle schede. Il Presidente ricorre alla Corte Suprema nonostante le azioni legali. I conteggi non si fermano e continuano ad andare avanti. E poi, in taglio basso, l'emergenza pandemia, Covid, altre quattro regioni a rischio, ecco i ristori. E poi c'è un'intervista oggi a Orlando del Partito Democratico che dice sulla sanità serve un nuovo patto. Il messaggero, eccolo qui, Trump, il canto del cigno, censurato in diretta TV. Il sogno americano nel nome di Biden, già pronta alla festa, è stata decisiva la rimonta in Pennsylvania. Il leader Dem prepara il discorso alla nazione e Donald annuncia la controoffensiva legale. Partono i primi riconteggi. Oggi c'è un'intervista sul messaggero a Silvio Berlusconi, Gio alleato strategico. Ancora a centropagina, eccole qui le nuove misure per le famiglie, scuole, mille euro per i figli a casa, in arrivo nuove aiuti ai genitori che non possono mandare i bimbi in classe nelle zone rosse. Il tar di Bari riapre elementari e medie, il picco di ieri oltre 37 mila positivi e 446 vittime. Ancora Campania, Liguria e Veneto verso la stretta potrebbero dunque cambiare fascia. Ricordiamo che oggi arriveranno i nuovi dati da parte delle regioni e si rifarà il punto della situazione. Tutti divieti regione per regione il Viminale che dice faremo controlli soft. E poi c'è la questione appunto proprio dei dati e del monitoraggio. Il pasticcio dei dati sul virus nelle città in ritardo e inesatti. Il sole 24 ore, eccolo qui. Generali strategiche restino in Italia. Presenza francese crescente, timori per azioni contrarie all'interesse nazionale. Poi dal Covid-19 rischi di danni gravi al sistema creditizio e finanziario del Paese. E poi ristori bis, tasse rinviate per le attività chiuse. E ancora appunto lo stop ai pagamenti di novembre. Fondo perduto esteso a nuovi settori. Diamo un'occhiata anche all'apertura del fatto quotidiano. Eccolo qui. Speranza. Possibili nuove zone rosse. Napoli sulle province. Decide la regione la classifica delle province più contagiate. Ieri 446 morti. Parla Domenico Arcuri. Tutte scelte condivise. Assurdo che le regioni protestino soltanto adesso, dice appunto Arcuri. E poi il ministro Speranza Napoli sulle province, dice, decide la regione. Bene, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Riprendiamo subito dopo con la rassegna stampa. Bentornati studio. Proseguiamo con l'assegna stampa di Omnibus. Siamo al foglio da cui vediamo alcuni titoli. Intanto Biden nella fine di un incubo grottesco a firma di Giuliano Ferrara e poi a firma di Claudio Cerasa dopo Trump. Il dopo Trump e tutti i pozzi avvelenati. In quattro anni di dibattito pubblico intossicato. Elezioni per il mondo dal rigetto americano. E poi ancora si parla della questione Covid. Verso nuove strette. Lunedì le ordinanze di Speranza. Campania e Liguria nel Mirino. Attesi i voti delle pagelle. Poi la cabina di regia e la decisione del ministero. Si tenta una tregua tra le regioni. E appunto quando dovrebbe accadere tutto questo? Lunedì o al massimo il giorno dopo martedì. Perché appunto si sa che questo meccanismo, come dice appunto il foglio, è abbastanza cervellotico. Però insomma potrebbero esserci delle novità e ci saranno molto probabilmente nei prossimi giorni sulla divisione delle regioni appunto in fasce. Il giornale Milano chiusa, folla per strada, virus da pazzi, farsa in Puglia. Un giudice apre le scuole, un altro le chiude. Decreto ristoria, arriva l'elemosina. Il governo ammette senza tasse, niente soldi per gli aiuti. Libero, italiani sull'orlo di una crisi di nervi. I divieti uccidono più del Covid. Proteste a Bergamo, tassisti in sciopero, assembramenti alle fermate dei bus. E ora da Roma minacciano di cambiare ancora i colori alle regioni. Una follia. Conte annuncia ristoria. Le imprese chiuse, solite balle, dice Libero. Il manifesto dedica la sua apertura alle elezioni americane. Fuga per la vittoria con Biden e Kamala Harris appunto in questa fotografia. Il resto del Carlino chiusi in casa ma frontiere aperte. Altro che zona rossa, basta un tampone. L'autocertificazione per entrare in Italia da molti paesi, compresa la Francia in lockdown. Ancora contagi in aumento e oltre 400 morti in 24 ore. Poi c'è appunto il braccio di ferro tra regioni e governo di cui si parla anche qui. Il tempo. Caos tamponi nel Lazio. La ASL si è persa. Mille tamponi nell'azienda sanitaria della provincia di Roma. Referti solo dopo 16 giorni. L'allarme dei dirigenti regionali e i sindaci della zona. Tanti contagiati per le strade. E poi si parla appunto di quello che sta succedendo anche a Torino. Alletti sistemati nella cappella di un ospedale in provincia di Torino. E le chiese diventano ospedali covid. La verità. Eccola qui. Avviso di garanzia anche per la Bosch. Indagati Renzi e il giglio magico. Il nodo dei finanziamenti incassati e distribuiti dalla fondazione Open si stringe attorno alla cerchia dell'ex premier. Per tutti l'accusa di finanziamento illecito. Un brutto inciampo in vista delle ambizioni del senatore che punta a fare il segretario generale della Nato. Biden che se viene ad essere il primo presidente non riconosciuto dice la verità. E poi Conte nasconde i numeri delle zone rosse e gialle. Gioca alle tre tavolette con i soldi del ristori. Affirma di Maurizio Belpietro. Ancora avvenire per un pugno di voti dedicato alle elezioni americane. La curva che non si abbassa per quanto riguarda i contagi in Italia. E poi il mattino campani all'allarme dei medici. Numeri ancora da fascia gialla ma gli ospedali sono allo stremo. Peggio di marzo. Servono più divieti. De Luca era meglio chiudere tutto. Rischiamo il lockdown a Natale. Attacca De Magistris che va in tv. Vi segnalo dal mattino anche un'intervista a Luca Richeldi che è pneumologo al Gemelli che dice la trasmissione del virus ha ancora molti lati oscuri. Pardemia complessa non consente di usare, dice, un solo parametro. E ancora una brutta storia che viene da un'inchiesta in una clinica di Napoli. Mamma in attesa del tampone, Cesare bloccato e il figlio che muore. Ancora andiamo a vedere allora le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera dove oggi c'è questa intervista al Premier Conte che dice chi rifiuta ora le tre fasce ci porta a sbattere. Serve unità. Leggiamo qualche passaggio di questa intervista in cui il Premier Conte dice sono mesi che l'Istituto Superiore di Sanità sta sperimentando insieme alle regioni questo meccanismo di monitoraggio. Le regioni lo alimentano con i dati inviati periodicamente e ne certificano i risultati attraverso i loro rappresentanti che fanno parte della cabina di regia. E ancora nessuno ha mai messo in discussione prima di adesso questo meccanismo. E rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato. I cittadini della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Calabria non ne trarrebbero alcun beneficio senza contare l'ingiustizia di imporre lo stesso regime di misure che stiamo applicando alle regioni rosse anche a cittadini che vivono in territori che sono anche in condizioni meno critiche. Però gli viene chiesto, il Presidente Mattarella invoca unità, non è una sconfitta per lei quella cartina di una Italia spaccata in tre? E il Premier risponde, unità significa solidarietà e non omogeneità. Non sono giornate felici per le aree rosse, i cittadini sono costretti a un nuovo regime molto penalizzante. Dice, ma anche le aree gialle e arancioni sono sottoposte a misure restrittive anche se hanno un grado diverso. e poi dice che questo treno sta correndo sempre più veloce e dobbiamo assolutamente fermarle per questa ragione che abbiamo introdotto via via dei riduttori di velocità con i primi di BCM. Quando si obietta che la mascherina obbligatoria all'aperto e al chiuso non ha sortito a effetti, rispondo che i contagiati, i decessi, i malati in terapia intensiva senza questo obbligo sarebbero stati molti di più. Questa è una parte dell'intervista del Premier Conte che trovate oggi sul Corriere della Sera in cui lui fa il punto su vari argomenti tra cui anche le questioni che riguardano i partiti e dice l'asse tra Zingaretti e Renzi che ci sia maggior intesa tra le forze di maggioranza e il loro rider è un mio stesso auspicio, è la premessa per vincere le sfide. Ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza ha riferito alla Camera proprio sulla questione della divisione in tre fasce dell'Italia su cui ci sono state tante polemiche da parte delle regioni. La difesa di Speranza ma i governatori minacciano ricorsi, misure da cambiare. Speranza in questa informativa ha detto tra le altre cose non c'è altra strada, il virus non ci dà tempo se non lo contrastiamo dilaga e poi ha detto in particolare se non pieghiamo la curva il personale sanitario non reggerà l'onda d'urto perché i numeri continuano ogni giorno drammaticamente a crescere sono oltre un milione di morti nel mondo e poi appunto dice che le polemiche sono inutili e in tutte le fasi del nostro lavoro ribadisce anche lui c'è stato il pieno coinvolgimento delle istituzioni scientifiche e delle regioni e dunque appunto si respingono un po' al mittente le accusi di questi ultimi giorni. C'è la questione dei dati dati che mancano e progressi improvvisi per cambiare zona i sospetti sulle regioni la Calabria oggi chiederà di passare a livello arancione in campania in solito boom di posti in terapia intensiva la Valle d'Aosta situazione seria se non ci avesse messo il governo in zona rossa dice lo avremmo fatto noi un'altra intervista che vi segnalo oggi dal Corriere della Sera è quella al professor Franco Locatelli membro del Comitato Tecnico Scientifico dice possiamo controllare la seconda ondata prese misure corrette e nei dati poi dice in questa intervista di alcune regioni una poca spiegabile distonia e ancora per quanto riguarda i tempi e i risultati dice l'impatto delle chiusure si potrà valutare in modo compiuto dalla terza settimana quindi bisognerà intanto aspettare e andare avanti ma ci sono molti problemi prima tra tutti appunto lo sappiamo quello sanitario la caccia ai medici di altre specialità ma ora molti dicono di no troppi rischi a Pavia un corso rapido per utilizzare il respiratore i camici bianchi una follia e il sindacato diffida le ASL dunque appunto e caccia a medici che possano rientrare anche in gioco anche appunto se sono ormai fuori magari per limiti di età le elezioni americane andiamo sulla Repubblica Trump non arretra ma ora i big del partito gli voltano le spalle il presidente continua a chiedere in più stati annullamenti di voti postali e riconteggi la sua base grita al colpe e si prepara ad un weekend di proteste in molte città tra i progetti di The Donald ha anche la formazione di un nuovo partito e c'è un aspetto che volevo segnalarvi Donald silenziato dai network televisivi le sue parole sono pericolose una scena senza precedenti ci racconta Repubblica il presidente Trump sale sul podio della sala stampa della Casa Bianca e le tv si collegano in diretta dopo poche frasi in cui rilancia confoga le accuse di elezioni rubata e processo democratico corrotto la maggior parte dei grandi network gli tolgono l'audio passando immediatamente a smentire punto per punto le rivendicazioni una cosa che non era mai accaduta ad un presidente degli Stati Uniti i valori e i diritti l'Unione Europea guarda Biden ma su Dazi e Webb sarà battaglia da Airbus a Big Tech i dossier più caldi il terreno di incontro sarà su politica internazionale pratiche democratiche e clima e poi eccolo qui vi volevo segnalare Salvini che rilancia la tesi dei brogli Meloni e Berlusconi lo lasciano solo le parole del leader della Lega diventano un caso internazionale l'indipendente diffonde le bufale di Donald e poi frena gli elettori hanno sempre ragione e ancora volevo farvi vedere sempre dalla Repubblica le questioni che riguardano il decreto legge ristori il consiglio dei ministri unito nella notte per valare un altro pacchetto di interventi destinato specie alle zone rosse arancione ne beneficeranno anche 57 categorie e ci sono delle misure che riguardano sia le famiglie che le attività commerciali più colpite da queste nuove chiusure ed è tutto per la rassegna stampa e adesso Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo Sì buongiorno queste le piogge quasi assenti previste per la prima parte della giornata di oggi prevale il bianco che significa anche cielo abbastanza sereno guardate il grigio delle nuvole a ovest vediamo che succede nel pomeriggio serata avanzano un po' queste nuvole coprono il cielo in parte sulle zone di nord ovest in Sardegna qualche nuvola gira anche al sud le debolissime piogge ma stiamo andando secondo me non si cumula neanche un millimetro in tutta Italia quindi insomma tempo stabile senza girarci troppo intorno vediamo tutta la giornata di domani le zone con debolissime piogge si affacciano al sud in Sardegna sulle zone di nord ovest ma sempre proprio ai minimi livelli e poi vediamo anche la giornata di lunedì in cui a ovest vedete ci sono delle zone sempre di piogge molto deboli ma che entrino sul nostro territorio come al solito sono sporadiche sono debolissime quindi situazione assolutamente tranquilla le minime di questa mattina come previsto da ieri la tendenza a scendere c'è stata al nord e in parte anche al centro un po' meno al sud però il cielo molto sereno o spesso sereno sapete che influenza le minime le fa scendere perché il terreno si raffredda di più chiudiamo con lo stato dei mari ancora mosso lo ionio soprattutto gli altri mari piuttosto tranquilli poco mossi in prevalenza per trovare del moto ondoso significativo dobbiamo allontanarci verso ovest zona Baleari dove vedete il mare può essere ancora ancora può essere anche molto mosso se volete ci vediamo subito prima delle 7 e 55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale da più tardi di più tardi Grazie a tutti